Stasera vorrei parlare un po' di come è strutturato il mio lavoro, come il mio lavoro segue un po' quelli che sono i principi fondamentali di quella che possiamo chiamare la creazione della realtà o il viaggio della coscienza e di come questi tre momenti possono essere sperimentati nel modo migliore ascoltando le energie che abbiamo a disposizione. Dunque proviamo a immaginare la realtà e la nostra esperienza della realtà come fatta di due movimenti fondamentali, un movimento di contrazione e un movimento di espansione. È una continua pulsazione. Questo è verificabile anche fisicamente perché fisicamente in un mondo fatto di vibrazioni la vibrazione non è altro che un'onda, quindi un continuo susseguirsi di picchi e di valli, di contrazioni e di espansioni. Questo segnale che nella nostra realtà sperimentiamo come il segnale radio, come una cosa che è molto vicino a noi, il segnale del wifi, ma questo segnale viene prodotto da tutti gli atomi intorno a noi. Tutti gli atomi intorno a noi hanno una frequenza, una pulsazione. Dal microcosmo al macrocosmo noi come esseri umani anche viviamo questa continua pulsazione. E in questa chiacchierata mi piace proprio vederla dal punto di vista emozionale, quindi la contrazione emozionale e l'espansione emozionale. Possiamo immaginarli come nei momenti estremi, il momento di estremo contrazione la depressione più nera e il momento di estrema espansione l'estasi più totale, quindi sentirsi completamente separati o sentirsi completamente uniti al tutto, alla coscienza, queste due esperienze. Tra queste due esperienze c'è un infinito gradiente in cui questa pulsazione continua si esplica. Quindi anche quando affrontiamo il lavoro spirituale naturalmente dobbiamo fare attenzione, perché se cerchiamo di operare creativamente sulla realtà ma ci troviamo in un momento di contrazione non avremo le energie adatte per effettuare quel tipo di lavoro. Il lavoro che dobbiamo effettuare è invece un lavoro di guarigione o di riarmonizzazione, diciamo così. Mi sembra sempre utile immaginare me stesso come una sorta di laboratorio alchemico, no? Tu sei in questo laboratorio e il laboratorio è nel caos più totale. Devi pulire le ampolle, devi rimettere ordine, devi bruciare quello che non serve più, devi effettuare un riordino, una purificazione. Sei nel momento di caos, sei nel momento di contrazione, sei nel momento in cui è necessario raccogliere le energie per fare ordine. Ecco perché quando sia nel momento di contrazione più intenso è molto importante avere delle priorità, è molto importante diminuire la quantità di dati, di informazioni che c'è intorno a noi, quindi diminuire anche le cose di cui ci dobbiamo occupare. È molto importante trovare poche cose che sono delle priorità per noi. A livello ancora più estremo, quando quasi non riusciamo ad avere la motivazione per vivere, è molto importante avere delle priorità momento per momento, quindi possono essere gesti molto semplici dal fare la doccia, al prepararsi da mangiare, al occuparsi di una certa cosa. Sono piccole priorità che ci cominciano a dare un ordine, una forma, perché il problema del caos è quello che c'è una energia che non ha forma, è informe, che ci risucchia nella sua informità. Quando abbiamo messo a posto, quando hai messo a posto il tuo laboratorio alchemico, ecco che puoi cominciare a creare, ecco che hai l'energia per cominciare a usare quelle ampolle, a mescolare quei liquidi e a creare qualcosa. Quindi puoi lavorare su quella parte del percorso di risveglio spirituale che si chiama creazione della realtà, legge di attrazione, si chiama in tanti modi, ma è fondamentalmente il momento in cui hai effettuato abbastanza pulizia da poterti ora dedicare alla creazione. Poi c'è un terzo momento che se vogliamo è quasi oltre la creazione, è oltre l'idea di manifestare qualcosa ed è un momento di risveglio, un momento in cui a forza di nutrire quel fuoco creativo dentro di te, ti rendi conto che non c'è separazione tra te e la tua creazione. Cominci a diventare quella creazione e quindi non la vivi neanche più come qualcosa che vuoi manifestare attraverso un desiderio che quindi cerchi di manifestare. Diventa un tutt'uno quel processo e tu ti astrai, ti svegli magari per un attimo e ti rendi conto che stai sognando, ti rendi conto che ti trovi in un costrutto della tua percezione, della tua anima e ti rendi conto che tutto va bene così. Entri un attimo in pausa se vogliamo dal punto di vista creativo perché ti godi quel momento di pura contemplazione, di pura meditazione. Ecco in realtà il vero valore della meditazione sarebbe proprio questo punto di pura contemplazione in cui semplicemente si è, ma in realtà noi per meditazione intendiamo qualsiasi processo che ci porta a partire dalla guarigione emozionale attraverso la creazione della nostra realtà per poi riuscire a raggiungere quel picco di consapevolezza in cui ti fermi e contempli questa creazione che sei tu stesso e sei quindi uno con il tutto. A questo punto o anche prima se vogliamo, anche durante il processo di creazione, ritorna anche il processo del caos. Dobbiamo sempre ascoltare quali sono i processi interni per renderci conto qual è il tipo di lavoro che vogliamo fare, in che stato è il nostro laboratorio alchemico interiore. Magari abbiamo rimesso in disordine le cose perché quando cominciamo un processo creativo sulla spinta di quel fuoco interiore smuoviamo tante cose dentro di noi, smuoviamo le relazioni, smuoviamo gli oggetti, smuoviamo il flusso dell'energia e quindi creiamo di nuovo caos se vogliamo. Oltre al processo creativo c'è anche un processo di trasformazione, e di ricreazione di un caos che però è fertile. Ma comunque quel caos deve essere elaborato attraverso un processo di guarigione. Quindi come dire, a volte è utile pensare che non possiamo stare sempre su quel picco creativo perché mi rendo conto che a volte cerchiamo, quando ci sentiamo male, quando percepiamo quel blocco emozionale, quel dolore emozionale dentro di noi, cerchiamo di entrare in un processo creativo, cerchiamo di manifestare, lanciamo ancora di più quei desideri, ma inevitabilmente lo facciamo da un punto di vista di mancanza perché ci troviamo in una contrazione, ci troviamo in una fase di caos. È come se cercassimo di usare quel laboratorio quando tutto va messo ancora in ordine, quando il superfluo va bruciato, quando le ampolle vanno pulite. E quindi entriamo in una sorta di circolo vizioso perché poi quel creare diventa faticoso, diventa fonte di frustrazione, proprio come se lavorassimo in un ambiente molto sporco, molto disordinato. Quei desideri non si manifestano o si manifestano altre cose, commettiamo degli errori e continuiamo ad aggravare la nostra situazione. Invece quando percepiamo quel caos interiore, ecco che dobbiamo dedicarci piuttosto alla guarigione, all'accettazione, alla pulizia, alla purificazione, trovando quelle priorità, trovando quegli oggetti che sono i primi che vogliamo mettere in ordine, che sono i più importanti, che sono i primi a cui vogliamo dedicarci e cominciando a dare questa gerarchia al nostro laboratorio interiore, così che diventa di nuovo un luogo in cui poter creare. E dopo aver creato, contemplare la propria opera. Anche questa è una fase molto importante che a volte ci dimentichiamo, perché stiamo talmente tanto in quel creare, in quell'adrenalina, se vogliamo, del creare, che possiamo perdere un po' la rutta, anche se siamo stimolati da quel fuoco dell'ottimismo, da quel fuoco interiore, perché non ci fermiamo un attimo, non ci fermiamo un attimo a contemplare, ad osservare, a respirare quella cosa che abbiamo creato. Quel momento è fondamentale e in fondo è il picco a cui tutto ci dovrebbe condurre, no? In fondo è la ragione fondamentale per cui facciamo questo intero processo, quel momento in cui ci distacchiamo, ci uniamo per un attimo la nostra creazione, la ascoltiamo, la sentiamo, sentiamo cosa ci dice, magari vogliamo andare ora in una direzione diversa o continuare con con quello, cominciamo ad orientarci in quel nostro mondo psichico, ma soprattutto ci rendiamo conto, non c'è separazione, ci rendiamo conto che quel nostro costrutto, quella nostra creazione è ancora noi, è ancora una parte di noi, una diretta proiezione, una diretta estensione di noi, viviamo quell'importante momento di risveglio. Dunque sempre notare questi tre momenti. Ho voluto ricordarlo specificatamente perché un po' queste tre fasi del percorso spirituale sono presenti anche nel mio lavoro a vari livelli e noto che a volte le persone possono tendere a confondersi perché c'è chi cerca un processo di guarigione emozionale e invece va a provare un processo più legato alla creazione della realtà o un processo più legato all'esperienza dell'estasi, del risveglio e trova frustrazione perché non funziona, perché non c'è l'energia giusta. Quindi anche quando vi orientate tra le cose che metto un po' fuori, cercate sempre di ascoltarvi e di capire cos'è che state chiedendo in quel momento. So che in molti lo fate già e quindi è superfluo un po' fare questa raccomandazione, ma mi capita ogni tanto che qualcuno si sente un po' disorientato perché ci sono tante direzioni in quello che metto fuori e quindi un pochino può confondere. Dunque è interessante vedere questi tre momenti e naturalmente vedere come continuamente vanno in successione. Non sono tre momenti che si esplicano nell'intera vita. Magari sì a un livello molto generale, ma anche nella piccolezza di un giorno, di una settimana, di un mese, questi tre momenti ciclicamente su vari argomenti continuano a lavorare. L'importante è muoversi tra questi momenti perché se si resta bloccati in uno di questi momenti semplicemente l'energia fluisce meno, siamo meno in movimento, seguiamo meno quella pulsazione dell'universo e quindi ci arrocchiamo. Lo vediamo benissimo quando ci arrocchiamo nella sofferenza emozionale perché diventiamo depressi, cronicizziamo quello stato di cose, ma ci si può cronicizzare anche su uno stato invece di fuoco. Si può diventare molto arroganti, si può diventare degli stacanovisti, si può essere dipendenti dalla propria attività, dal proprio essere continuamente nel fare. Così come ci si può arroccare anche in quel momento di contemplazione, nel distaccarsi troppo dal mondo e quindi creare una sorta di falsa pace, no? Perché in fondo quello che la stimola è la paura di interagire con il mondo. Il distacco dal mondo, il risveglio vero avviene proprio sull'onda di un'attività che ci ha portato un attimo a prendere un respiro diverso. Ma non c'è sotto la paura di interagire con il mondo, c'è anzi un senso di essere tutt'uno con il mondo e quindi di essere in continua azione in un certo senso, in continua interazione. Non c'è la sensazione di essere fermi, ma è una sensazione un po' paradossale di immobilità continuamente attiva, di pulsazione che è pure fatta di due cose ma anche di una. È difficile naturalmente verbalizzare questi concetti che sono così legati alla percezione dell'uno, dell'unità, perché non abbiamo le parole, perché non abbiamo i concetti per esprimerli. Però più o meno tutti abbiamo vissuto qualcosa, abbiamo gustato qualcosa, se non altro da bambini, di quel momento in cui tutto è uno, non percepiamo quasi più la differenza tra noi e il mondo, siamo talmente presi nel nostro gioco, che non c'è più preoccupazione, non c'è più separazione. Quindi fate ricorso alla vostra memoria per capire qualcosa che non riesco a spiegare, a far percepire, diciamo così, attraverso le parole. Cercate di leggere dietro le parole e soprattutto ascoltatevi, ascoltate il momento in cui vi trovate nella vostra vita, immaginatevi come questo laboratorio alchemico e cominciate a muovervi nella vostra immaginazione, cercate di capire se c'è bisogno di pulire, di cominciare a creare o di osservare la vostra creazione. Godetevi questo processo perché è un processo necessario. Si tende a vivere la sofferenza come qualcosa di cui dobbiamo liberarci, senza renderci conto che con sofferenza chiamiamo uno stato di caos che potrebbe essere e dovrebbe essere molto fertile, ma soprattutto uno stato di contrazione che avviene comunque. Quindi anche quando ci si libera, ci si guarisce di una sofferenza, attenzione a non cadere nel falso presupposto che dice ora che mi sono liberato sono salvo e questa cosa non tornerà mai, perché la contrazione continua continuamente a tornare. È il naturale pulsare, è il naturale caos che porta a nuova creazione. Quindi si tratta di cambiare piuttosto l'atteggiamento con cui si vede la propria sofferenza, gradualmente cambiare la prospettiva con cui si vive quella contrazione che continua a tornare, piuttosto che cercare di sperare che non si presenti mai più perché continuerà a presentarsi in una forma o nell'altra e più cerchiamo di sfuggire a quel momento, distraendoci in tutti i modi possibili, più quella cosa si presenterà in modo distorto, in modo confuso, in un modo che non riusciamo a maneggiare bene. Quindi abbracciare quella contrazione non appena si presenta e usare quella spinta propulsiva attraverso un processo di guarigione per poi sperimentare gli altri stadi più alti, più elevati se vogliamo, più limpidi, più ricchi di ottimismo e di fuoco che riguardano la creazione. Grazie. 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 Grazie.